Ciao a tutti, sono Mattia Targon, Coroni Rally, navigato da Andrea Piston, si è da poco conclusa la nostra stagione agonistica del 2017, il quale ci ha visto partecipi a due campionati, uno l'IRC Cup e l'altro la Piston Cup, con la nostra fida Honda Civic Type R che ci ha portato nelle posizioni di assoluto vertice sin dalla prima gara, purtroppo nell'ultima un'uscita di strada ha compromesso definitivamente la nostra stagione e la possibilità di vincere appunto i due campionati, ma questa cosa non ci sconforta, anzi i risultati che abbiamo ottenuto comunque ci danno la carica e una buona prospettiva per l'anno seguente, la stagione che verrà insomma. Ringrazio tutti, ringrazio la Tecneco e arrivederci all'anno prossimo.